Anche Isabella D'Antono, direttore della TGT, tra i premiati con il riconoscimento europeo Lorenzo il Magnifico, consegnato oggi in Palazzo Vecchio. Tra i premiati anche Carlo Conti e Cristian De Sica. Vediamo. Musica, cinema, scienza, spettacolo e televisione protagonisti. Nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, tradizionale appuntamento con il premio europeo Lorenzo il Magnifico, giunto quest'anno alla 27esima edizione ed organizzato dall'Accademia Internazionale Medicea. Un vero e proprio parterre d'Eruain, questa edizione, una passerella di grandi personaggi. Tanti applausi subito per Carlo Conti, fiorentino doc ed innamorato della sua città. Quando si prende un premio vuol dire si invecchia? No, vuol dire due cose. Primo che evidentemente si sta lavorando benino e poi perché si invecchia anche, no? Qualche anno fa non me li davano i premio. Comunque è sempre un onore, un piacere, soprattutto quando si viene a Firenze a ricevere un piano. È sempre straordinario. Per l'informazione e la televisione il premio è andato in questa edizione 2010 ad Isabella D'Antono, la nostra vulcanica direttrice del TGT. Siamo tutti molto contenti perché non è mio ma è di tutta la redazione. Perché in qualche modo io ci sono sempre, però la testa ce la mettiamo tutti, le braccia ce le mettiamo tutti e questo è un gran risultato per tutti i tecnici e giornalisti del TGT. La cosa bella di oggi è che il TGT come marchio è diventato popolarissimo. Popolarissimo e addirittura questa signora che è accanto a me, che ha preso il premio prima di me, quando ha sentito il TGT, diceva ma lei è di TGT ma io gli voglio telefonare e mi garbo un monte. Grazie a tutti. Premiato poi l'attore Cristian De Sica, a 30 anni dallo stesso riconoscimento consegnato a papà Vittorio. Oggi io vivo in Toscana, vivo a San Giuliano Terme, quindi ho scoperto un mondo fatto di intelligenza, di garbo e di grande senso di umorismo. Perché io credo che forse i napoletani e i fiorentini si accomunano per questa grande leggerezza di prendere la vita con un grande senso di umorismo e ce ne vuole tanto di questi tempi. Fra i premiati inoltre il maestro e pittore Silvano Campeggi, il questore di Firenze Francesco Tagliente e la presidente dell'Accademia della Crusca Nicoletta Maraschio. TGT, un abbraccio forte, continuate a guardarlo, forte, forte, lo conosco da quando era bambino, avevamo i capelli tutti e due e lui ce l'aveva neri. Io ce l'ho ancora bianchi però purtroppo. Io invece non ce l'ho più.